Siediti qui. Vieni, vieni qui. Siediti qui. Ehi, bravi! Un sorriso, dai, un sorriso. Bravi, bravi. Grazie signora. Tutti Chihuahua! Lei come si chiama? Quale? Lei? Io, Laura. Signora Laura. Laura Comune. Conosce tutti i cani? Certo, tutti i nomi, sono educati, obiettivi, dillo i nomi, dai, 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 siedi qui, siedi qui, se voglio, si siedono anche, però mi devo togliere il cielo, è mai bene il paese, quindi dove sei? Filippini? Filippini? Sì, io mi chiamo Marvin, sono andata e mi sono comprata almeno un cucino, anche il tempo che ci vuole per mettere l'acqua, bollirla, tutto.